Come mai sei qui oggi all'iFidelity? Sono qua perché da quando ero adolescente sono appassionato del mondo dell'iFi quando sei adolescente guardi questi oggetti meravigliosi con una morbosità quasi erotica perché sai che non puoi averli, poi magari a forza di guardarli andando avanti e di desiderarli andando avanti nella vita puoi magari anche approcciarli Poi trovo che l'iFi sia qualcosa di tutto quello che riguarda l'iFi sono proprio oggetti straordinari dal punto di vista estetico che sono belli anche spenti, quindi da avere in casa come complemento d'arredo Ma l'Alta Federità da quando è arrivata fai conto che il primo trauma in senso positivo con l'Alta Federità ce l'ho avuto grazie al fratello maggiore di un mio caro amico che veniva a scuola con me e noi andavamo di nascosto nella sua stanza che riusciva a malapena a contenere il letto e l'impianto perché aveva speso tutto con i primi soldi guadagnati proprio per l'impianto sterico noi andavamo ad ammirare e a volte quando sapevamo che non tornava lo accendevamo pure di nascosto cercando di rimettere i dischi tutti nell'ordine come l'aveva lasciati poi sai ci sono stati grandi cambiamenti di come si ascolta la musica e io devo dire che tecnologicamente ho affrontato tutti i cambiamenti quasi come un surfista come arrivava la nuova Honda subito la cavalcavo però poi alla fine sono tornato proprio per una questione di necessità all'acquisto dei vinili perché ovviamente ascolto da tutte le piattaforme come Spotify come Tidal però poi alla fine c'è una ritualità che ho riscoperto e che trovo estremamente sexy cioè quando viene qualcuno a casa o magari ti metti a casa ti siedi e tiri fuori un disco che hai appena acquistato anche se magari lo avevi già ascoltato prima lo conoscevi già ti concedi questa meravigliosa libertà di riascoltarlo dall'inizio alla fine perché le nuove piattaforme hanno creato perlomeno io parlo sempre dal mio punto di vista di quasi cinquantenne una sorta di bulimia musicale cioè tu ascolti, 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 poi stoppi, passi da una cosa all'altra quindi visto che la musica comunque ti permette per esempio nell'arco di un weekend di ascoltare i tuoi dieci dischi preferiti cosa che non potresti fare per esempio con i libri perché non c'è proprio il tempo invece potendolo fare con i dischi appunto ti ripeto mi concedo questa libertà qui il televisore dopo che sono passato allo schermo OLED devo dire che è stato una bellissima scoperta da cui poi non riesci più a prescindere perché se guardi un altro video ti sembra di essere tornato indietro nel tempo però devo dire che alla fine è la cosa che vince sempre e di cui magari ci se ne accorge meno che è del salto in avanti che ha fatto l'audio dei film e quindi un buono schermo se tu lo colleghi a un impianto stereo quindi lì c'hai il massimo del godimento insomma ma devo dire che noi abbiamo avuto la fortuna di collaborare con Rick Rubin e la cosa di cui è rimasto più sconvolto Lorenzo è stato vedere i diffusori che aveva Rick Rubin in casa per ascoltare la musica quindi non in studio perché sai l'ambiente dello studio è come il laboratorio poi invece quando vuoi passare e godere veramente di quello che hai prodotto di quello che hai fatto serve qualcosa di bello e poi io credo questo che come con gli strumenti musicali che io per esempio non credo mai nello strumento economico quando qualche papà mi chiede consiglio su come far approcciare il figlio alla musica io dico sempre no, non farlo iniziare con uno strumento economico spendi per un bello strumento perché poi magari se lo porterà dietro lo accompagnerà per tutta la vita e penso che sia i soldi spesi per gli strumenti che per gli strumenti per riprodurre e ascoltare la musica siano i soldi meglio spesi della vita perché che cazzo ce devi fare se non quei soldi ho un giradischi si chiama Concept in showroom ho uno Stanton e poi c'ho un amplificatore Macintosh e due casse Eris in Grips poi Total Black poi c'ho un lettore per i DVD perché ancora ogni tanto capita di utilizzare un DVD e uno schermo OLED della LG 55 pollici questo è il mio diciamo attualmente è quello che più preferisco e poi ovviamente le casse abitando in un appartamento non posso andare oltre nel senso perché poi diventerebbe impegnativo dal punto di vista dei vicini però lo consiglio come dire a tutti anche a chi non suona ma a chi piace io poi nasco quando ti avvicini alla musica nasci come ascoltatore prima non come musicista quindi lo consiglio veramente a tutti grazie안�ốn Grazie a tutti Grazie mille Grazie a tutti